amici di youtube eccoci nuovamente con leo ciao leo saluto agli amici di youtube che ci facciamo una partita con il mostro verde leo e il mostro verde questo è il titolo del video facciamo vedere a tutti gli amici di youtube come giochiamo con il mostro verde eccolo qua facciamo vedere a tutti gli amici come ci divertiamo con il mostro verde che cosa vuole questo qua da te vuole giocare con te il mostro verde leo giochiamo con il mostro verde facciamo vedere agli amici di youtube come giochiamo con il mostro verde cosa vuole questo coso da te ti diverti e con il giocattolo verde e questo è il nuovo giocattolo di leo che cosa vuole questo mostro da te leo ce l'ha con te questo mostro verde che si fa la quel mostro verde leo andiamo a giocare con il mostro verde ragazzi i gatti si divertono con poco vedete come gioca cosa vuole questo coso verde da te leo che cosa vuole da te questo mostro verde ti vuole mangiare ti vuole mangiare questo mostro verde che vuole mangiare questo non è un po' di più che vuole mangiare questo non è un po' di più eccolo qua gioco e gioco gioco Grazie. Leo, che cosa vuole questo mostro da te? Il mostro verde. Giochiamo col papiro. Facciamo vedere agli amici di YouTube come giochiamo con il papiro. Questo è il nuovo giocattolo di Leo. Leo, vieni, vieni. Salutiamo gli amici di YouTube da Giovanni, Leo e il mostro verde. Cosa vuole da te questo mostro, Leo? Che cosa vuole da te? Vuole giocare con te? Grazie. 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 Leo, salutiamo tutti gli amici di YouTube? Dice amici di YouTube io sto giocando con il mio padrone e con il mostro verde. Grazie. Grazie.